Sulla gamba destra ha i segni di un morso di cinghiale ricucito con i punti. Ivana Ciano, 61 anni, di Panicale, provincia di Perugia, è stata attaccata mentre camminava in campagna con un'amica. Eravamo a passeggio da pochi minuti, quando io mi sono ritrovata per terra, sbattuta sulla sinistra, e mi sono trovata il cinghiale che mi mordeva la coscia alla parte destra. Ci troviamo a Colle San Paolo, dove la signora Ivana Ciano è stata aggredita. Come potete vedere si tratta di una zona di campagna, la presenza dei cinghiali qui è sempre stata un dato di fatto, ma finora non si era mai registrata nessuna aggressione. I danni all'agricoltura invece sono una costante, ma negli ultimi anni per la direttrice della Confederazione Italiana Agricoltori, Katia Mariani, sono perfino aumentati e gli imprenditori aspettano ancora i risarcimenti. I pagamenti sono fermi a 2014 e quest'anno ci stanno chiedendo il De Minimis perché i danni vanno al regime De Minimis e non vogliono pagare. Regime De Minimis significa 15.000 euro di risarcimento triennale imposto dalla comunità europea, ma per alcuni agricoltori umbri i danni ammontano a più di 50.000 euro l'anno. Tutte le volte che la caccia è aperta, nelle stagioni di caccia aperta, i cinghiali e tutta la fauna si rifugiano da noi, facendo danni fino al giardino di casa. I cinghiali arrivano nella piazza comunale di Titignano, dove ho l'agriturismo. L'assessore regionale Fernanda Cecchini promette di intervenire. Si tratta di fare interventi più appropriati per abbatterli anche nelle aree protette e nei parchi. Intanto i cinghiali continuano ad avvicinarsi sempre di più alla città, tanto da essere ormai chiamati cinghiali urbani.